Gromo ha finanziato il progetto per la nuova mensa scolastica che verrà realizzata nell'area esterna del plesso. Investimento circa 430 mila euro grazie al PNRR. Sebino ha siglato un accordo con le province di Bergamo e Brescia per le attività di protezione civile. Le frecce tricolori tornano sul lago di Seo per il ventesimo Memorial Stoppani. La pattuglia acrobatica nazionale tornerà l'overe l'11 settembre con un sorvolo sull'Alto Sebino, unica data nella Bergamasca. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Un incidente stradale si è verificato intorno alle 17.15 di questa sera ad Ardesio. In via Ponte Nuovo un'auto è uscita di strada finendo contro un muro. Soccorso in codice verde un uomo di 76 anni. Sul posto la REU, l'agenzia regionale emergenza urgenza, ha inviato un'ambulanza della Croce Blu di Gromo e un'auto con il medico a bordo. Intervento per un'equipe di un'ambulanza del corpo volontario Presolana questa mattina a Gazzaniga, in località San Rocco, è stato soccorso un 46enne a seguito di una caduta. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale Antonio Locatelli di Piario. I carabinieri della stazione di Clusone hanno notificato ieri al titolare di un circolo privato di Clusone la sospensione dell'attività per un periodo di 10 giorni in seguito a un'ordinanza emessa dal questore di Bergamo. Il provvedimento emesso dalla questura scaturisce dalla segnalazione dei carabinieri, i quali, durante servizi mirati svolti nei giorni scorsi, hanno verificato il rispetto delle normativi di settore e il pericolo per la moralità pubblica. I militari hanno accertato all'interno del locale la presenza di soggetti pregiudicati, la diffusione di volantini promozionali cartacei e la diffusione sui social di promozioni aperte a tutti, in contrasto con le normative dei circoli privati e anche la presenza di giovani donne dell'est Europa residenti nell'Interland milanese. E nei giorni scorsi era stata annunciata l'imminente chiusura anche ai pedoni del ponte tra Son Gavazzo e Rovetta per via di un intervento alla spalla sul versante di Son Gavazzo. Interdizione anche i pedoni, i mezzi non possono transitare già da diverse settimane, prenderà il via lunedì 13 giugno e proseguirà per 12 giorni proprio per consentire i lavori. E ora andiamo a Gromo, buona notizia per l'amministrazione comunale, è arrivata la conferma di un importante finanziamento dal PNRR, il Piano Nazionale Resilienza e Ripartenza, dal valore di 430 mila euro con cui si doterà il plesso scolastico con una moderna mensa che apre così le possibilità a una nuova organizzazione con il tempo pieno. Vediamo il servizio di Nicola Androretti. Un ottimo risultato per il comune di Gromo nei bandi del PNRR perché il progetto presentato per una nuova mensa alle scuole è entrato in graduatori e è stato finanziato per 430 mila euro a fondo perduto. Immagino una grossa soddisfazione per l'amministrazione comunale. Sì direi proprio di sì anche perché l'amministrazione comunale sta puntando molto all'ampiamento dei servizi della nostra scuola. Infatti mesi fa abbiamo realizzato la caldaia cippato, abbiamo creato due aule più grandi e partiranno presto i lavori di una parete, alla realizzazione della parete di arrampicata nella nostra palestra che collegherà la valorizzazione del corno del QC. Allora niente questo contributo ci consentirebbe di realizzare una nuova costruzione adiacente all'edificio scolastico nel quale andremo appunto a creare una mensa. Si tratta di un intervento che ci permette innanzitutto di valutare anche una nuova offerta scolastica. Per esempio il tempo pieno che in questi anni non poteva essere nemmeno preso in considerazione. Inoltre questo spazio potrà essere utile anche per altri vari motivi. Senz'altro un luogo idoneo per l'intervallo visto che da noi il brutto tempo purtroppo impegna molti giorni, impegna numerosi giorni. Anche perché a scuola comunque si parla di merenda sana per cui questo spazio aggiungerebbe anche il consumo di prodotti sani e naturali ma ci piacerebbe tanto anche fosse uno spazio nel quale porre l'attenzione su disturbi alimentari. Ci piacerebbe soprattutto fosse uno spazio nel quale promuovere i nostri prodotti tipici e prodotti a chilometro zero. Anche attraverso incontri con i nostri produttori abbiamo già altre manifestazioni come per esempio Gromo sempre in forma che hanno questo obiettivo e la scuola sarebbe un bel punto di incontro. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova mensa al servizio del presso scolastico di Gromo che accoglie sia la scuola primaria cioè gli allievi di Gromo che la scuola secondaria di primo grado, gli allievi di Gromo, Gandellino e Valgoglio. La scelta strategica è quella di offrire alle famiglie dei giovani utenti la possibilità di usufruire del servizio mensa che consentirebbe di indirizzare l'offerta formativa verso il tempo pieno e in questo senso il comune ha presentato nel febbraio 2022 distanza a valere sui bandi del PNRR, fondi per il ministero dell'istruzione. La nuova mensa si realizza in un edificio di nuova costruzione collocato nell'attuale area verde della scuola garantendo al tempo stesso indipendenza ed efficienza oltre che a un rapido e protetto collegamento con l'edificio scolastico già esistente. La nuova costruzione ha un'ampiezza lorda di circa 215 metri quadri e una capacità dimensionale di circa 150 pasti somministrati per turno. Risulta moderna dal punto di vista di risparmio energetico dell'impiantistica per l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per il rispetto delle nuove antisismiche e per le scelte architettoniche innovative e green. Allora si parte dal presupposto che il futuro sono i nostri giovani e per cui credo che dobbiamo proprio a loro tutto quello che possiamo fare. Dopo avere sottoscritto un accordo con la guardia costiera ausiliaria, l'associazione Camunia Soccorso e la Croce Rossa italiana, l'autorità di bacino la quale dei laghi di Seo Endine e Moro ha firmato un protocollo di intesa con le due province di Bergamo e Brescia al fine di coinvolgere dieci associazioni di volontariato locale nel controllo della sicurezza sul Sebino nel corso della prossima stagione estiva. Sì, anche quest'anno l'autorità di bacino è riuscita a coinvolgere le province di Brescia e Bergamo per la sottoscrizione di uno specifico protocollo di intesa per attività di prevenzione sul lago nel corso della stagione estiva 2022. Saranno coinvolte le protezioni civili delle due province Brescia e Bergamo e le associazioni di volontariato che hanno aderito all'invito fatto da autorità di bacino di sottoscrivere anche per quest'anno il protocollo di intesa. In questo momento la provincia di Bergamo ha coinvolto quattro associazioni di volontariato, mentre la provincia di Brescia sono sei le associazioni di volontariato coinvolte. Il budget è disponibile complessivamente di 20.000 euro, suddiviso con 8.000 euro per le associazioni della provincia di Bergamo e 12.000 per le associazioni della provincia di Brescia. Tradizionalmente il protocollo di intesa che veniva effettuato nella stagione estiva quest'anno viene ripetuto con una disponibilità per i fine settimana e per le festività infrasettimanali secondo un calendario che verrà definito e sottoscritto dalle associazioni in collaborazione con le loro protezioni civili provinciali. Negli anni scorsi veniva sottoscritto un unico protocollo di intesa che vedeva le polizie provinciali, le province di Brescia e Bergamo, le polizie provinciali coordinare tutta l'attività. Quest'anno per vari motivi questo non è stato possibile, comunque il protocollo di intesa con le due province viene sottoscritto e la polizia provinciale ha garantito comunque un servizio che verrà fatto sul lago. Nei giorni scorsi il 7 giugno ha celebrato il settantesimo di sacerdozio Don Carlo Negrotti, collaboratore pastorale a Clusone dalle 2010 dopo aver ricoperto importanti incarichi. Nato il 18 agosto del 1929, laureato a Roma in sociologia e pedagogia, è stato componente della comunità missionaria del Paradiso, svolgendo il suo ministero a Monte Rotondo a Roma, a Magliano Sabina, nel collegio di Paio d'Ascona, nelle parrocchie di Ronco Sopra Ascona e nelle quelle romane di San Basilio e San Giustino. Negli anni 70 è tornato nella Bergamasca diventando direttore del seminario del Paradiso, poi paroco a Zingonia, insegnante assistente spirituale di comunione e liberazione e rettore del collegio Celana. La comunità Baradella lo festeggerà in occasione delle celebrazioni per l'Assunta, così come era stato fatto anche nel 2017 per il suo 65esimo anniversario. Lo abbiamo intervistato. Come ha visto modificarsi nel tempo la Chiesa, la comunità cattolica intorno a lei in questi 70 anni? La modifica, anche se non si può chiamare modifica, io la chiamo crescita. Ecco, la Chiesa sempre di più è andato man mano crescendo, trasformando, direi, la fede dentro un atto doveristico in un atto di riferimento-rapporto. Ed è cambiato il rapporto non soltanto con la fede che vivo, ma con tutti i rapporti che mi sono stati dati. E questi 70 anni cosa rappresentano per lei? I 70 anni, direi, è un tempo grande che non avrei mai immaginato, come dire, di raggiungere, dentro cui le situazioni diverse hanno aperto sempre, direi, aperto spazi, modalità, diversità, direi che non cambiano l'indirizzo, ma che ad un certo momento, come dire, carismaticamente lo perfezionano. Ha avuto l'opportunità di stare in mezzo ai giovani. Pensando ai giovani di oggi, qual è un po' il messaggio che si sente ridare a loro? Direi, il messaggio con i giovani di oggi è che, direi, c'è meno voglia, ecco, di incontrarli associandoli. C'è voglia di incontrarli e di sentirli. Per cui il giovane non è più qualcuno, come dire, ecco, da, la parola magari è grossa da indottrinare, ma è soltanto uno da incontrare, dentro cui si impara anche da lui e lui impara da me. Ha avuto l'occasione e l'opportunità di incontrare il servo di Dio, Don Giussani. Il suo messaggio, diciamo, i suoi insegnamenti oggi, quale attualità hanno? Ma il messaggio salutare di Don Giussani per me è stato questo, l'educazione alla fede. Per cui la fede non è, direi, dentro una manifestazione operativa di iniziative, eccetera. La fede è un rapporto che vivi e che comunichi. E dentro quella realtà lì, direi, sono cresciuto. Ecco, per cui mi dà tutto un'altra, direi, modalità di incontrare la gente, le persone. E come sacerdote della Comunità del Paradiso, cosa ricorda di quei primi momenti? Ecco, la Comunità del Paradiso, direi, una bellissima iniziativa di Don Fortunato e del Vescovo Bernareggi. Ecco che non ha avuto, direi, la consistenza dentro cui era nata. Ma era già da allora un'iniziativa che poi, ecco, si è manifestata, direi, con Concilio Vaticano II, nelle ordinazioni. Ecco, come Donum Fidei. Quindi a disposizione del mondo dove c'è bisogno di un'accoglienza, c'è bisogno, oggi diremmo, di un'evangelizzazione. Ma di una prossimità, come dice il Papa, di una vicinanza dentro cui il rapporto immediatamente fa scattare l'umano. E per quanto riguarda invece l'incontro con Don Sandro Dordi, cosa ci ricorda? Te l'ho detto già, direi, ecco, precedentemente nel discorso con te. Ecco che io l'ho conosciuto poco, ecco perché, direi, io sono entrato, come dire, gli ultimi due anni nella comunità Paradiso e lui è venuto dopo di me, per cui non abbiamo avuto la possibilità di una convivenza, ecco, per cui anche, direi, dentro rapporti personali. Però è stato molto significativo per il dono di sé. Esplorare quanto abbiamo fatto in tema di tutela della parità di genere, ma soprattutto cosa possiamo fare ancora in futuro. Questo è il senso della giornata della film Cisle Bergamo, dedicata oggi alla presenza femminile nel mondo metalmeccanico. Una presenza che negli anni si è fatta via via più consistente e negli ultimi tempi anche nella parte operaia del sistema fabbrica. Avevo deciso di dedicare una giornata alla contrattazione delle pari opportunità e quindi a tutte quelle che sono delle politiche di genere perché stiamo notando un cambiamento in atto all'interno delle nostre fabbriche metalmeccaniche. È vero che la componente femminile nei reparti produttivi è molto più bassa rispetto a quella maschile, ma probabilmente è arrivato il momento di interrogarci sul perché. Diciamo che l'immagine stereotipata dell'azienda metalmeccanica e delle tute blu si sta molto evolvendo con i tempi. La parte impiegatizia sta crescendo, all'interno di quella parte la presenza femminile è molto importante, ma ci sono anche delle donne operaie che hanno bisogno di politiche sindacali e contrattuali specifiche per il rispetto della diversità. Cioè è vero che la questione di genere è una questione che mette in campo la diversità della donna da parte dell'uomo, perché dare pari opportunità a tutti non vuol dire partire dallo stesso punto di partenza, ma vuol dire costruire dei percorsi specifici per arrivare tutti al traguardo, ma con molta attenzione a quella che è appunto la diversità. Quindi non solo politiche che liberino il tempo delle donne, che sicuramente per il modo in cui è costruito il nostro sistema di welfare sono importanti ed è giusto che le aziende ci aiutino, ma soprattutto politiche che possano attivare le potenzialità femminile e quindi aiuto nella gestione dei percorsi di carriera, superamento delle differenze salariali, formazione specifica, attenzione particolare al rientro dopo le lunghe assenze. Penso soltanto a tutta la questione della maternità. Sicuramente c'è bisogno di solidarietà femminile, ma c'è bisogno anche di molta intelligenza maschile. Come FIM di Bergamo ci poniamo comunque l'obiettivo di affrontare una tematica sicuramente complessa e storica, che è le disuguaglianze di genere all'interno del nostro settore. Sono problemi che ci trasciniamo da molti decenni e purtroppo ancora oggi non ci sono delle risposte sufficienti sia in termini quantitativi, ma soprattutto in termini qualitativi. Oggi il tasso di occupazione femminile è circa 20 punti in meno rispetto a quello maschile, ma soprattutto in termini anche qualitativi, le retribuzioni delle donne sono nettamente inferiori di un 20% rispetto a quelle maschile, tenendo conto che oggi purtroppo anche in termini di posti di responsabilità la dimensione femminile è poco presente. Oggi io credo che dobbiamo affrontare questa tematica che è soprattutto culturale, perché spesso le diversità di genere vengono comunque visti come un limite. E purtroppo esiste ancora uno stereotipo dove i problemi legati alla genitorialità sono attribuiti esclusivamente alle donne con una serie poi di vedute negativi e discriminanti rispetto al potere assumere delle donne legate proprio a questo aspetto. Oggi io credo che ci troviamo in un contesto in cui possiamo fare molto. Già l'industria 4.0 rispetto a quelli che sono lavori ripetitivi e soprattutto gravosi, tendenzialmente ci ha dato una mano in maniera abbastanza significativa, introducendo comunque innovazione per alleviare e ridurre un po' questo carico. Al tempo stesso io credo che la contrattazione, elemento fondamentale nel protagonismo sindacale, può dare delle risposte concrete in termini soprattutto di introduzione di percorsi formativi che tendono comunque a aumentare quelle che sono le competenze femminile e dare la stessa opportunità in termini di crescita professionale di carriera alle donne. Io credo che dobbiamo avere un'azione comunque concreta nel mettere a fuoco quelli che sono una priorità di andare a riequilibrare queste misure, ma dandoci veramente come priorità. Non deve essere uno slogan, ma deve essere sostanzialmente una presa d'alto con dei fatti, con gli strumenti che noi abbiamo. Dopo la pubblicazione del calendario della pattuglia acrobatica nazionale, è finalmente arrivata l'ufficialità anche del programma dei sorvoli che vedrà ancora tra le protagoniste il lago di Zeo con l'Overe. Le frecce tricolori torneranno all'Overe l'11 settembre con un sorvolo sull'Alto Sebino. Unica data nella Bergamasca. Anche quest'anno l'Aeronautico Militare ci ha cominciato il passaggio della PAN, che vedremo arrivare da Ovest perché sarà a Monza per il Gran Premio Formula 1, e arriverà e squarcerà il cielo perché è veramente in valle, vedere arrivare la pattuglia acrobatica nazionale fa rizzare la pelle a tutti. È una cosa spettacolare e nessuno dovrà mancare l'11 settembre sull'Alto Lago di Zeo, sul lungo lago di Lovere, di Costa Volpino e di Pisogna. Veramente uno spettacolo eccezionale, ma non solo PAN, perché lo spettacolo inizierà il sabato, avremo un raduno aquilonistico eccezionale, avremo la vongolfiera, avremo l'elicottero dislocato su tutto l'Alto Lago, avremo poi il programma di acrobazia civile con Andrea Pesenato, campione italiano acrobazia aerea, The Wing Walker è una coppia svizzera con un biplano completamente rosa e questa donna che camminerà sull'ala, da qui Wing Walker, uno spettacolo che tanti hanno nei film americani degli anni 50-60, queste dimostrazioni adrenaliniche di acrobazia aerea. E poi tanti altri ospiti, sia in cielo sia in acqua, perché ricordiamo che il memoria Stoppani nasce come raduno di trovolanti. Ricordiamo brevemente Mario Stoppani, un grandissimo pilota, l'overese di nascita, ha fatto la storia del volo idrovolante nel mondo, ha diventato asso nella Prima Guerra Mondiale, dopodiché si è dedicato completamente ai record, ha fatto 50 record mondiali e poi è collaudi, è morto negli anni 60 come collaudatore, dieci giorni dopo aver collaudato l'ultimo suo velivolo, un anfibio in Riviera, fantastico, e si è spento nel suo letto, stranamente, al contrario di tanti suoi colleghi della sua epoca, collaudatori che purtroppo morivano in volo, perché erano un mestiere non semplice all'epoca. Per cui vi aspettiamo all'Overe, sul Lago di Iseo, il 10-11 settembre, saremo veramente interessanti, venite presto, perché se non trovate il parcheggio, dovete andare poi sulle montagne a vedere le frecce, che è comunque uno spettacolo anche da lì. Quest'anno finalmente ritornano le frecce tricolori a vergare il cielo sopra il nostro lago. È un evento ormai che ha assunto una dimensione a livello nazionale, tantissimi sono gli appassionati di volo, gli amanti, i seguaci delle frecce tricolore che vengono all'Overe per questo appuntamento, il fatto che quest'anno ritornino a vergare il nostro cielo, ci fa così assaporare un po' questo ritorno alla normalità che da tempo stavamo auspicando. È un progetto molto ambizioso, che ha richiesto molto lavoro, e che è nato appunto dalla costituzione di un comitato, che in questi ultimi anni ha, visto la partecipazione anche del comune di Costo Olpino, del comune di Bisogna, proprio perché nella vision che l'Overe ha sempre avuto nella promozione del turismo e del territorio, c'è proprio questa filosofia di base che sta nella condivisione e nella collaborazione con tutti i comuni del territorio. Questo si è visto anche con la creazione del G16 e con tutta una serie di iniziative che sono partite da l'Overe, ma che poi hanno abbracciato tutto il lago di Sera. Diciamo che in tutte queste edizioni del Memoria Stoppani si sono consolidati anche i rapporti di amicizia e di collaborazione con i vertici dell'aeronautica. Noi dobbiamo ringraziare l'ammiraglio Luca Conti che è un loverese che lavora presso lo Stato Maggiore della Difesa e quindi ci ha aiutato nel tempo a sensibilizzare lo Stato Maggiore dell'aeronautica sull'importanza di questo evento e su come la partecipazione delle frecce di colore potesse contribuire a rendere degna memoria al nostro concittadino, tenente colonnello Mario Stoppani. Chi è solito visitare cittadarte o borghi storici conosce l'importanza delle visite guidate. A Clusone il servizio si è strutturato su iniziativa del Comune e di promosserio mettendo in calendario appuntamenti tutti i fine settimana. Visite prenotabili attraverso il sito visitclusone.it. Sentiamo il vice sindaco e assessore al turismo Roberto Balduzzi. Avete strutturato un servizio che di fatto risponde alla vocazione turistica di Clusone. Sì, Clusone ha un panorama di bellezza e di offerta culturale che è da sempre conosciuto. Quello che abbiamo cercato di fare in collaborazione con l'ufficio turista con cui va tutta la mia gratitudine è dare la possibilità ai visitatori di poterne godere sempre in tutti i weekend alternativamente o il sabato o la domenica avere sempre a disposizione la possibilità a una visita guidata a quelli che sono i luoghi imperdibili di Clusone quindi l'orologio planetario Fanzago la danza macabra e il complesso monumentale la basilica. Chiunque verrà a Clusone potrà sempre avere la possibilità di accedere a visite guidate per le quali suggeriamo di effettuare la prenotazione e il portale Visit Clusone è a disposizione anche per qualsiasi consultazione così come il nostro ufficio turistico ma sarà sempre possibile visitarli da qui fino alla fine dell'anno quindi un nuovo servizio o meglio un servizio che viene istituzionalizzato e sarà sempre offerto ai visitatori di Clusone e anche ai cittadini e magari dei paesi vicini che potranno venire a fare un acquisto nei negozi di Clusone e al contempo godersi delle bellezze culturali che offre. A Clusone proseguono i preparativi in vista del ritiro dell'Atalanta i giocatori della DEA saranno impegnati con la preparazione già dalla prima settimana di luglio al centro Bortolotti di Zingonia da lunedì 11 a domenica il 17 luglio sono attesi a Clusone ma pare che potrebbero arrivare anche qualche giorno prima in calendario dovrebbero esserci anche un paio di amichevoli ricordiamo che dal 27 giugno alle ore 20.30 sul canale 84 di Antenna 2 quindi sul canale del digitale terrestre tornerà in onda Potadea la trasmissione dedicata proprio alla preparazione dell'Atalanta trasmissione condotta da Elisa Cucchi e domani a Lovere è in programma un quadrangolare di calcio sentiamo Arnaldo Guadagni Sabato pomeriggio presso il porto turistico di Lovere dalle ore 15 andrà in scena il quadrangolare di calcio dedicato alla memoria dell'ex presidente Bonomi Vittorio e ex giocatore capitano Romei Legiusi della Seminia le squadre che si affronteranno saranno i Vintage che hanno fatto grandi loro formazioni cioè la squadra organizzatrice della Seminia poi il Darfo e il Breno e ospite gradito sarà i Vintage del Brescia capitanati da Zambelli e Luciano De Paola il tutto ricavato praticamente sarà donato in beneficenza all'associazione di Costo Volpino perché siamo unici ed ora per presentarci questo torneo sentiamo il presidente della Seminia Vintage facciamo il nostro quadrangolare come promesso ai tempi del quadrangolare di Breno dove parteciperemo noi Vintage della Seminia poi quelli del Brescia, del Breno e del Darfo e tutto sarà devoluto all'angelo Costoro di Predore un quadrangolare in memoria a Bonomi e a Giuse Romene che sono stati due uno il presidente della Seminia e l'altro un giocatore della Seminia Ricordiamo dunque presso il porto turistico di Lovra dalle ore 15 vi aspettiamo numerosi ed eccoci alla programmazione questa sera sul canale 84 alle ore 20 trasmetteremo videomotori alle 20.30 a Target alle 22.15 la rubrica Italia Economia alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.15 Decoder fuori porta puntata dedicata al Monte Sallucio e al Pizzo Formico quindi saliremo dalla zona di Clusone fino a queste alture alle 23.45 trasmetteremo il programma sull'innovazione tecnologica intitolato le transizioni del futuro alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario Nel Manacco per domani sabato 11 giugno il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 21.16 il culmine alle ore 13.20 la durata del giorno è di 15 ore 52 minuti la luna sorge alle 17.37 e tramonta alle 3.47 di domenica la fase lunare la luna è crescente ed è visibile al 78% il santo del giorno è Barnaba e con questo è tutto vi ricordiamo che a seguire vi saranno la rubrica erbe e salute e le previsioni del tempo vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata e vi ringraziamo per la vostra attenzione